La ringrazio nella parola e vorrei ricordare a Livia Frescobaldi che, anzi non so se gliel'avevo mai detto, ma il primo messaggio, la prima mail di lavoro che io ho ricevuto quando si è saputo della mia nomina come segretario generale del Ministero è stata quella di Livia Frescobaldi, appunto, che si presentava come la presidente degli amici di Doccia e mi chiedeva informazioni sul museo. Allora io sono ricorsa alle persone sul territorio, in particolare a Stefano Cascio, ed ho avuto qualche aggiornamento. Non che io la questione non la conoscessi, perché del museo di Doccia mi ricordo delle difficoltà e poi della successiva azione di tutela. Mi ricordo di aver parlato a lungo con Alessandra Marino, a suo tempo, soprintendente, che aveva dato l'avvio a quello che è stato uno dei vincoli in assoluto più complicati, più complessi, più difficili che io abbia mai visto, perché non solo l'edificio, ma catalogare, verificare, fotografare e tutelare con un provvedimento amministrativo insieme all'edificio, quindi con questo vincolo di pertinenzialità, un complesso di opere di questo tipo, di questa quantità, devo dire, è proprio un'operazione molto, ma molto complicata. E quindi, intanto, a tutta la soprintendenza, oggi ad Andrea Pessina, ma allora ad Alessandra e a tutti i suoi collaboratori, ai funzionari che oggi ho visto, perdonatemi, non mi ricordo i nomi, però, insomma, a loro credo vada attribuita, perché ce l'hanno la gioia nostra di vedere tutelata l'intero complesso e quindi, che ci ha dato quindi, la possibilità poi di arrivare con un'azione di acquisto e quindi di acquisizione alla pubblica fruizione. Questa è stata una pietra miliare fondamentale, però ricordavo questo nostro incontro per mail, perché, devo dire, con molto piacere, ho capito immediatamente che questo non era un semplice museo, una semplice collezione, un semplice edificio in abbandono da tutelare, era un qualcosa di più, era un qualcosa di più che era nel cuore delle persone, perché esiste da dieci anni un'associazione che pone l'attenzione su questo complesso di beni, perché poi anche tutta la comunità si è dimostrata assolutamente legata e si dimostra assolutamente legata a questo complesso di beni, alla fabbrica e al museo, perché lì ci lavorano, ci hanno lavorato ed hanno prodotto da generazioni le ceramiche. E quindi, in questo senso, credo che l'eccezionalità del bene merite, abbia meritato e meriterà tutti i nostri sforzi. E in questo, quindi, sono assolutamente d'accordo con quello che lei diceva poc'anzi. Beh, oggi ho però visto, l'ho visto per la prima volta, mi aspettavo di avere una certa sorpresa, ma al di là del senso, ma che poi è dell'abbandono, perché l'abbandono è di diversi anni, si capisce un bellissimo edificio, appunto, giù di manutenzione direbbero gli architetti, ma con grande dignità architettonica, con una serie di difficoltà a carattere manutentivo, ma con all'interno vetrine ed opere assolutamente, non solo recuperabili, ma che già ti fanno immaginare una esposizione assolutamente strepitosa. Non solo, ma la vicinanza alla fabbrica ti fa anche già immaginare tutta una serie di attività di carattere formativo, educativo, di ricerca, di mille altre cose che saranno in grado di valorizzare non solo la collezione prodotta, ma anche tutti i processi di produzione che sono rappresentati nella stessa esposizione che io ho visto oggi chiusa nelle vetrine, tutte le forme, i prototipi, le mille, mille oggetti di grandissimo, grandissimo interesse. Ecco, quindi mi sono detta che c'è molto lavoro da fare, ma che stiamo partendo con il piede giusto, nel senso che i lavori di manutenzione specialistica, li possiamo chiamare di restauro, sono abbastanza evidenti quelli da fare, ma abbiamo già delle provviste economiche, quelle che lei prima ha detto, ma anche lo stesso Ministero ha provveduto ad appostare in un piano di finanziamento un milione e novecentomila euro per l'avvio dei lavori di restauro, adeguamento e riallestimento e quindi stiamo partendo con il piede giusto anche per quello che riguarda la futura gestione. L'abbiamo detto prima, a breve l'accordo di valorizzazione sarà firmato e questa è una pietra mediare, un punto fondamentale perché ci dà finalità ed obiettivi per un lavoro comune che è quello stabilito fra il Ministero, la Regione e il Comune. E poi ci saranno insieme tutti gli altri in quello che diventerà una fondazione. Il percorso, dicevo, è già segnato e nell'accordo di valorizzazione si prevede che venga concluso con questo soggetto di gestione, che appunto è una fondazione partecipata anche da privati entro la fine dell'anno 2018. Nel frattempo si potranno preparare, presentare e forse anche cominciare a realizzare, ma questo non lo so, anche i progetti per il restauro dell'edificio. Certo che ci troviamo oggi di fronte ad un grande percorso che è quello che è di tutela, di valorizzazione, di fruizione, che è poi quello che costituisce la missione fondamentale di un museo. E quindi mi sembra che abbiamo, come dicevo prima, un grande lavoro di fronte, ma una strada molto chiara. E devo dire che quando si parla di recupero di edifici a carattere museale o di collezioni insieme ad altri enti, non sempre si presenta tutto così chiaro. oltretutto così partecipato, perché come lei prima diceva, tutti stanno facendo una parte più o meno grande, più o meno quantificabile, però tutti stiamo facendo una strada che è ugualmente importante per arrivare a questo importantissimo obiettivo. Quindi io mi sento molto, ma molto, davvero molto fiduciosa e soprattutto confido anche nel lavoro di chi dovrà qui in Toscana portare avanti la realizzazione e la gestione, almeno per le prime parti, ma comunque partecipare poi per noi ministero alla fondazione, ovvero soprintendenza e polo museale. Quindi a voi tanti auguri di buon lavoro, soprattutto. E a voi tutti, ovviamente. Ci rivedremo, come si usa dire. Grazie. Applausi.